Smacco è la storia di una bambina qualunque, che da quando nasce viene marchiata, etichettata in determinati modi, a seconda di quelle che sono le sue caratteristiche o i suoi modi di comportarsi. Solo che questi marchi, un po' come succede a tutti, questi ruoli sociali che ci vengono date, queste definizioni, che rischiano un po' di incastrarci, perché passiamo la vita a voler essere perfetti, a non voler essere più in un determinato modo, oppure voler soddisfare le aspettative degli altri, quindi essere come loro pensano, ci hanno detto che noi sembriamo, e quindi questo crea un'ansia da prestazione continua, continua rispetto ai ruoli sociali che andiamo a giocare, fino a quando arriverà un giorno nella vita di Mismarco, e spero di chiunque, dove l'ansia da prestazione si trasforma in accettazione, in curiosità. Grazie a tutti!